Da una siciliana all'altra il passo è breve. A compierlo sarà la Salinis, che sabato pomeriggio sul neutro di Conversano dovrà dimenticare la sconfitta contro Acireale, provando a riprendere il cammino verso i traguardi stagionali affrontando il Catania. Due formazioni siciliane appunto dal peso specifico diverso. Acireale ad oggi è una specie di bestia nera per la Salinis, oltre a essere la coinquilina sulla vetta del girone B della Serie A2. Catania è più indietro in classifica, ma non per questo la squadra allenata da Domenico Lodispoto intende affrontarla con leggerezza. Anzi, bisognerà ritrovare il passo delle prime quattro giornate, quelle che hanno permesso il poker di vittorie, per riprendere il cammino verso una salvezza che nelle intenzioni della Salinis resta il primo obiettivo stagionale. Certo, un risultato positivo contro la Cireale, come ammette il portiere Diego Lopopolo, avrebbe ipotecato quasi certamente la qualificazione alle finali A8 di Coppa Italia. Una rivelazione di quello che potrebbe essere un traguardo intermedio di questa stagione per la squadra rosa-nero. Pronta a mandare a memoria gli errori commessi ad Acireale, poco cinismo sottoporta per non ripeterli al cospetto del Catania. Avversario che verrà affrontato senza l'argentino Nardacchione, fermato per un turno di squalifica, ma con tutto il resto degli effettivi a disposizione del tecnico Lodispoto. Grazie.